Io come persona, io come persona. Io come persona. Io? Io? No, io, 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 io come persona. Non so. Io come persona, io come persona, io come persona, io, io come persona, io come... Mi guardo dalti fuori come fossimo due persone, osservo la mia mano che si muove, la sua decisione. Fuori vedo chiaro, quel gesto non è vero, sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta, la bocca resta aperta forse troppo, poi si chiude in fretta. Si vede chiaramente che cerco un'espressione, che distacco, che fatica questa mia finzione. Cerco un gesto, un gesto naturale, per essere sicura che questo corpo è mio. Io cerco un gesto, un gesto naturale intero, per essere sicura che questo corpo è mio. Invece non so niente, sono a pezzi, non so più chi sono. Capisco solo che continuamente io mi condiziono. Devi essere come una donna, come un santo, come un Dio. Per me ci sono sempre i come non ci sono io, per tutte quelle cose buone che non ho ammazzato. Chissà nella mia vita quante maschere ho costruito. Queste maschere ormai sono una cosa mia, quel dolore che fatica a buttarle via. Cerco un gesto, un gesto naturale, per essere sicura che questo corpo è mio. Io cerco un gesto, un gesto naturale, per essere sicura che questo corpo è mio. Cerco un gesto naturale, per essere sicura che questo corpo è mio. Grazie. 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 Grazie.